La Pfizer ha assicurato che dalla prossima settimana le consegne riprenderanno regolarmente e dunque si potrà ripartire. Notizie riferite al presidente De Luca che aveva chiesto delucidazioni prima di pianificare la campagna vaccinale insieme ai direttori generali delle Aslo della Campania, convocati per oggi a Napoli. In arrivo 40.000 dosi, utili non solo per i richiami ma anche per le RSA e gli anziani ultraottantenni. Nell'ultimo bollettino intanto sono 1.178 i casi registrati. Il tasso di positività cala al 7%. Nel report dell'unità di crisi si registrano però altri 26 decessi. Tra le vittime un altro medico, Angelo Mascolo, 65 anni di Gragnano, in servizio a Castellammare e consulente per la procura di Torre Annunziata. Ma a tenere banco è soprattutto la questione scuole. Lunedì ripartono le superiori e c'è timore per gli assembramenti. Il mondo educativo è in rivolta. I docenti del liceo Pansini di Napoli hanno scritto al capo dello Stato Mattarella per dire no al rientro in classe in presenza al 50%. È necessario garantire piena sicurezza per tutti, assumendosi la responsabilità di vaccinare insegnanti e studenti, si legge nell'appello. E di sicurezza parlano anche ragazze e ragazzi che hanno occupato il liceo Gian Battista Vico di Napoli. Noi le richieste sull'apertura di sicurezza le abbiamo fatte tante volte, ribadiamo, trattano principalmente trasporti, sanità, edilizia e anche tutte le sfumature che hanno accompagnato le contraddizioni della scuola già da prima del Covid, le classi Pollaio, la situazione dei lavoratori della scuola, dei docenti e tutte cose che non sono state tenute conto non negli ultimi settimane ma nell'ultimo anno. Il nostro intento è quello di creare un presidio sanitario fisso con tamponi rapidi e un medico naturalmente qualificato per farli.